Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, io sono le singole di questo video in cui ragazzi siamo nel settimo episodio, siamo a vincere la Champions League, la scorsa puntata, aveva fatto col Barcellona, ora ci tocca al Bayern Monaco, c'è un po' il maestro che sta dopo da tantissimo tempo, quindi ragazzi iniziamo subito, simuliamo contro il Tottenham, vediamo un po' inizia Tottenham, Bayern Monaco, pariggiamo la 1 signora Muller e il successo, un punto a casa, intanto prepariamo la promozione, da mettere Putin, ok, da Lucas Fernandez, simuliamo contro il Rapid, iniziamo da 0, tenendo il Command e iniziamo da B e portiamo 3 punti importanti, iniziamo da B e portiamo 4 punti, iniziamo da B e per la B e per la B e per la B e per la B, inizio di B e per la B e per la B, 3 punti, dai che ciò che intendo, non prima il giro, non? Si è bene stresa, è rito, non ho avuto spaiermone, va? Doi, una, signor, non è lachino, e, da, ecc, va, va. Stiamo a avutire 3 punti. il per amore signor contro il tottena in capa il monoco tottena 1 a 0 segna chimici infortuni su davis 3 punti importanti ultimo ma meno infortuni per davis ah no sta bene segna conti rapide 4 però di nulla 3 punti importanti vediamo un po' quale sta la nostra per il conto spesso aiutavi ah 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 ahhh il lione è benissimo iniziamo 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 per riposo per il riposo per il gottino ah vabbè giochiamo contro il lione inizia lione paier monaco 3 a 2 se non le vangosti non è corretta e se non le fai i cambi iniziamo ma al ritorno abbiamo stato molto attenti a lione in casa nostra iniziamo in campo nuovo un alaba per il mio chino iniziamo iniziamo paier monaco rione vai paier no si si qualificano da mercantile politica e anderson non basta anderson e andiamo un elemento al prossimo turno eliminati di rione vediamo un po' quale sarà il nostro prossimo avversario l'inter qua è molto tasta mettiamo nulla si per ora apriamo così vediamo il sera milano inizia l'inter bagger monaco dai bayern inizia parigi fareggiamo segno davanti a samura poi un ritorno è decisivo che sicuramente è la nostra vediamo un po' che sul espulso il potenco non ci voleva giocata ah va un po' che sul e comando vediamo così da qua speriamo di eliminare il ninja ragazzi finiamo l'inzia bagger monaco inter dai bayern 0 0 ci qualifichiamo ma in manchester city ragazzi mamma mia tanta roba in manchester city in manchester city bayern dai bayern nooo doppietta di sterling peccato in semifinale arriva la spatosta peccato 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 quindi ragazzi questo video finisce qui siamo arrivati in semifinale peccato dobbiamo giocare la finale quindi ragazzi che dirà è tutto grazie ciao ciao ciao